Davide Seregni, Sales Manager Sud Europa Electronics Line. Avete di recente stretto un importante partnership in Italia per la distribuzione? Sì, abbiamo di recente esplorato un accordo con la società Dias per la distribuzione esclusiva in ambito nazionale, la quale tramite la sua rete di distributori si preoccuperà della distribuzione e del supporto del nostro prodotto sul mercato italiano. Benissimo, la vostra realtà appartiene ad un gruppo tra l'altro molto importante. Sì, Electronics Line da metà 2010 è stata acquisita dal gruppo Risco e quindi come tale facciamo parte di questo importante gruppo prestigioso del mercato della sicurezza in ambito mondiale. Qui a DIVSEC voi presentate dei prodotti decisamente innovativi che sono dedicati anche al mercato italiano. Ce li vuole presentare? Sì, abbiamo principalmente due linee di prodotti, un prodotto, una linea monodirezionale e una linea bidirezionale. In particolar modo la linea bidirezionale si contraddistingue dalla monodirezionale per l'utilizzo di applicazioni derivanti dalla verifica video. Quindi tramite il nostro software ELAS possiamo interagire attraverso i nostri dispositivi portatili come iPhone, iPad o Android. possiamo usufruire e accedere alla nostra centrale collegata direttamente al server tramite questi dispositivi. Benissimo, tra l'altro particolarmente dedicata anche all'uso domestico. In particolar modo l'utente finale avrà la possibilità tramite i nostri sistemi di controllare sia attivamente che passivamente il sistema tramite le applicazioni. Quindi on demand potrà visualizzare le peer camera presenti nella propria abitazione e anche una volta avvenuto l'allarme. Quindi una volta su verifica evento sarà possibile interagire con l'impianto capendo effettivamente che cosa è successo tramite la verifica video.